Cinque persone sono state condannate, quali esecutori dell'omicidio, ma sul banco degli imputati nel processo per la morte di Anna Politoshkaia, chi non è mai arrivato è il mandante. Chi decise, cioè, che quella giornalista scomoda per il Cremlino, per l'esercito, per Vladimir Putin, dovesse morire. E oggi, 15 anni dopo, è arrivata la prescrizione, chi ha voluto la sua morte e quindi non potrà essere più perseguito penalmente. Anna Politoshkaia fu uccisa la sera del 7 ottobre 2006 nell'androne del suo palazzo, nel pieno centro di Mosca. Quattro colpi di pistola a distanza ravvicinata, uno alla testa. Fu subito chiaro che si trattava di un omicidio su commissione. La Politoshkaia, 48 anni, era una delle giornaliste investigative più conosciute e scomode in Russia. I suoi reportage sulla guerra in Cecenia, sul Dagestan, sull'Inguscezia, svelarono violenze e abusi commessi dall'esercito di Mosca sulla popolazione civile, ma criticavano anche duramente Vladimir Putin per il suo operato in Russia. Per questo era stata più volte minacciata di morte. Lei e il suo giornale, Novaya Gazetta, la nuova gazetta, erano diventati il simbolo dell'opposizione. Nel 2004 tentarono di avvelenarla, nel 2006 fu costretta a fuggire in Austria, ma le sue denunce non vennero mai meno. Fino a quella sera di 15 anni fa, era il 7 ottobre, giorno del compleanno di Vladimir Putin, una circostanza che per qualcuno non è solo una coincidenza.